ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo come resettare questa macchinetta per il caffè automatica caffitaly s05 a volte può succedere che ci sia appunto bisogno di resettare la macchina alle impostazioni di fabbrica e adesso in questo breve video vi spiegherò come fare per prima cosa la macchina deve essere suspento il tasto di accensione deve stare suspento e dobbiamo tirare indietro totalmente la leva che serve per forare le capsule quindi deve essere tutto indietro ora teniamo schiacciato il tasto carico acqua in questo caso lo teniamo premuto e accendiamo la macchinetta subito dopo aver acceso la macchina dobbiamo tirare avanti la leva e ritirarla indietro immediatamente quindi accendiamo giù la leva sulla leva la macchina lampeggia per confermarci fa anche il suono il bip per confermarci l'avvenuta operazione e da questo momento in poi è pronta per l'utilizzo completamente resettata quindi ricapitolando spenta leva indietro teniamo schiacciato pulsante carico acqua che in alcuni casi per altri modelli può essere il pulsante di espresso accendiamo una volta avanti una volta indietro ed è pronta questa macchina nello specifico era bloccata quindi proviamo a derogare un caffè per vedere se funziona tutto perfettamente anche per questo video è tutto io vi ringrazio per la visione vi consiglio di iscrivervi al mio canale per restare aggiornati sui video che faccio e alla prossima